Benissimo, buonasera ora vediamo Simona Stick che è un prodotto gratuito, open source che ci consente di fare delle prove di Mesh con una istanza di OpenSim sul nostro PC PC Windows, basta cercare Simona Stick su Google vedete che ho messo semplicemente Simona Stick qua eccolo qua troviamo subito un sacco di risultati questi qua uno dei primi che troviamo è proprio il primo andiamo qua, Simona Stick e poi possiamo decidere di scaricare una versione, ad esempio io ho scaricato la più semplice, la versione Simona Stick questa una, da una sim sono 110 megabyte circa, da me ci impiegano 5 minuti l'ho già scaricato quindi nel momento in cui l'avete scaricato vi compare uno zip aprendo questo zip e scompattando da qualche parte sul vostro PC o su una penna portabile trovate questi file sono scompattati saranno un pochino di più vediamo quanti sono sono vabbè adesso l'ho già partita è fatta partire quindi saranno vabbè 300 megabyte con cui una chiavetta ci stanno comodamente allora qua per farlo partire vedete che qui c'è un how to start in login se no si lancia semplicemente il ci sono due sistemi in teoria dovrebbe esserci anche un punto bat per lanciarla ma in quest'ultima versione non l'ho trovata però è molto semplice vabbè leggiamo questo schema qua e vediamo che qui ci spiega come si fa lui dice di cliccare sul mowes vedete shortcut e poi di cliccare su opensim in realtà mowes opensim non ci sono come shortcut ah no ecco la cosa giusta è questa qua cioè praticamente noi facciamo highlight vedete che qui rilatiamo quindi navighiamo dove abbiamo unzippato e poi lanciamo mowes ex e poi andiamo sotto diva r20232 slash b bin opensim punto ex quindi questo è tutto molto semplice e poi usiamo un client qualunque possibilmente imprudence o meglio fenix se volete le mesh e useremo questo la porta sarà 127.001 sulla porta 9100 simona come primo nome stick e come password 123 volendo si possono aggiungere anche altri utenti a questo sistema è sufficiente poi andare sull'indirizzo questo qui 9100 vedete che fa vedere che c'è un wifi quindi vedremo queste tre operazioni allora abbiamo detto che teniamoci un secondo qui facciamo mowes come ci ha detto lui mowes è un sistema per installare senza fatica dei server epaci e dei server mysql che servono per il database questo qui è semplicemente un'indicazione di mowes che dovrebbe essere partito in teoria facciamo hide eccolo qua quindi vediamo che mowes è portabile mowes è proprio questo sistema in cui ci dice che epace sta lavorando e anche mysql sta lavorando qui potrei poi stoppare il server perché occupa un po' di risorse e posso poi chiudere tutto in realtà dobbiamo poi ancora andare abbiamo detto qua bin cercarci opensim punto ex questo qua opensim 32 bit launch punto ex lo vediamo sempre evidenziato qua sotto ah voi magari non vedete il punto ex ma comunque opensim punto 32 bit punto launch e poi lo cliccate semplicemente e parte la sim ora nel momento in cui parte la sim dovete aspettare un attimo che vada su quindi si caricherà il database farà tutti i suoi mestirini perfetto a un certo punto dopo un minutino forse anche meno ecco ho detto è tutto a posto qui region in questa regione si chiama soas 1 simonastik 1 per entrare in questa regione dovete andare su fenix e configurare una grid questa grid ci sono già delle grid preimpostate però se non c'è dovete creare una nuova simonastik quindi come fate fate add e qui la chiamate e qui potete mettere semplicemente http 2.127001 2.9100 vedete quindi queste qui sono le coordinate della nostra sim quindi localhost 127.001 e poi con getgridinfo se il server è su vi torna tutte le sue caratteristiche compreso anche l'indirizzo del wifi che ci interesserà più tardi quindi voi create questa grid gli date magari un nickname vostro quindi gli dite mia sim fate ok quindi compare nell'elenco delle grid la mia sim e qui entriamo come simona stick e come password 1.2.3 allora facendo in questo modo entrando allora intanto la sim che è questa vi dirà che sta entrando qualcuno quindi voi potete vedere anche chi sta entrando ma comunque siete sempre voi vedete che lui sta entrando effettivamente dovrebbe entrare vediamo un po' se ce la fa in questo momento c'è un loading world eccolo è entrato si è piegato un attimo è entrato quindi siamo lì vedete che abbiamo il nostro avatar di default che è un root volendo ovviamente qui si può fare io ripeto questo piccolo discorso che conviene fare con quell'appearance e crearsi comunque anzi vi conviene decisamente farvi una shape subito nuova quindi dall'inventory fate un create clothes no body parts dovete farvi una shape poi dovete fare quindi questa qua quindi new shape dovete farvi ancora una new skin e poi una new hair e poi una new eyes obbligatoria questo di passaggio perché quelle di default che fanno loro purtroppo non sono modificabili o comunque hanno dei problemi quindi poi dovete indossare facendo doppio click queste ecco a questo punto è meglio questa cosa qua perché anche se si vede male si potrà poi vedere anche da tutti gli altri browser nuovi altrimenti se usate questi possono sempre esserci dei problemi ok allora qua beh cos'altro c'è ah si avevamo detto che si può beh qui potete fare tutto quello che volete quindi fare create create un cubo content gli fate uno script lo script vedete che con la nuova versione è subito attivo quindi potete scriptare costruire fare più o meno tutto quello che potreste fare in un open sim la mappa c'è una sola regione che magari non si vedrà un granché però comunque qui potete sbizzarrirvi potete importare delle mesh se volete quindi upload model quindi andiamo su cifro andiamo in die vediamo vaso greco punto die questo qui vedete che è il vaso greco lo vaso greco eccolo qua facciamo generate weights and fees upload e voilà dovrebbe esistere nell'inventory il vaso greco lo rezziamo e abbiamo il vaso greco questo lo faccio vedere per tutti coloro che mi chiedono anche come è il motivo per cui faccio vedere insomma open sim per chi vuole fare mesh perché così si possono costruire delle degli oggetti di mesh e provare a vedere come stanno senza bisogno di mettiamo shininess high così viene un po' belloccio e quindi ci siamo visti nella nostra mesh quindi abbiamo un'idea di come viene quindi tutto questo discorso appunto per evitare di spendere soldi su second life qui adesso il test che volete fare può funzionare anche così ma è anche possibile si diceva entrare con un browser su 127.0.0.1.9100 wifi e da qua quindi torniamo qua quindi se noi entriamo così entriamo nella gestione nell'amministrazione della nostra della nostra sim quindi vedete che siamo login Uri e qui possiamo creare altri utenti quindi possiamo entrare come simona stick password 123 fare login e quindi qui fare un po' di mestieri oppure possiamo creare un nuovo account se non ci piace simona stick dovremmo poter creare un account e qui creiamo un account noi mettiamo nome cognome sala gmail.com una password una password e poi si crea l'account ok è stato creato l'account quindi a questo punto in teoria potrei entrare con quell'utente vediamo se è vero quindi qui facciamo un logout quit quindi usciamo da da fenix vediamo come la stessa cosa si può fare con firestorm qui c'è anche una versione di firestorm su firestorm è leggermente diverso ma in realtà molto simile quindi abbiamo firestorm eccolo qua firestorm attenzione che ho preso la versione per open sim l'ultima perché quella ci sono due versioni di firestorm una per open sim che consente di specificare le grid e una senza open sim che invece entra solo in second life qua è sufficiente andare in ctrl p quindi nelle preferenze e poi si aggiunge la nuova grid e si mette http due punti 127 aspettate 127 001 due punti 9100 perfetto si fa apply e rivedete che è presente nel sottofondo più o meno quello che abbiamo visto prima e questa sim avrà il nome simunastik ecco l'avevo già installata prima e quindi ve l'ha installata quindi nel momento in cui avete quella simunastik potete entrare proviamo a entrare come salazar stan vag ah no avete nome e cognome vi ho detto no nome e cognome password che vi ho messo prima entriamo sulla nostra simunastik vedete che ci fa entrare con un nuovo avatar quindi in realtà un mondo così può essere già configurato per tenere n account poi volendo con un piccolo trucco che non faccio vedere adesso si può fare in modo tale che si possa anche fare in lan in una scuola in modo tale che questo sia un vero e proprio una vera e propria sim condivisa in lan vedete che c'è un avatar che si chiama nome e cognome vediamo un po' se funziona la mappa qua ah no sulla mappa su firestorm vedete che funziona leggermente meglio esce la mappa visto su fenix non usciva se volete provare il vostro rischio pericolo imprudence magari lo vediamo ancora imprudence come funziona solo che con imprudence non si vedono le non vediamo le mesh quindi entriamo in imprudence vediamo un po' questo no non è questo sarà prendiamo questo dovrebbe essere lui allora entriamo con imprudence magari entriamo con il nostro simona stick eccolo qua il nostro imprudence che sta partendo come vedete posso avere più viewer contemporaneamente l'unica differenza l'unica accortezza è evitare di avere lo stesso utente perché non è possibile avere più utenti dello stesso avatar nello stesso momento presenti ok allora vedete che qui le grid sono graft eccetera eccetera ma noi possiamo andare sul grid manager di imprudence aggiungere una nuova grid e qui ormai l'avete capito gli mettiamo http 2.127001 2.9100 facendo in questo modo gli dovete mettere ancora qui mia grid grid nick grid name simon stick ah vedete qui si può anche memorizzare questa è imprudence ma era che versione era questa qui di imprudence sarà quella giusta dovrei farvi vedere ah 1.4.0 no 1.4.0 è già troppo avanzato ed è che permette già di fare già delle cose notevoli no volevo farvi vedere come viene però non c'è ancora le mesh volevo farvi vedere come viene imprudence invece vecchio che avete voi che sarà questo a questo punto imprudence 1.3 ok questo è già troppo facile la 1.4 è una versione di imprudence già più avanzata che quasi quasi vi consiglierei già leggermente di più rispetto all'imprudence normale che avete perché almeno c'è un qualcosuccio di più anche se io tendenzialmente imprudence ah ok imprudence is already running quindi lo chiudiamo in realtà è un altro imprudence lo rilanciamo questo qua adesso non dovrebbe più avere problemi la 1.3 è quella che c'è distribuita con Edmondo infatti vedete l'interfaccia è un pochino più semplice sembra uguale comunque vediamo subito se è la stessa ah ecco vedete che qua abbiamo add new grid e qui non ci sono tutte le sofisticazioni di imprudence 1.4 quindi grid name gli mettiamo sim on a stick login uri http 127 001 9100 get grid info qui controllate perché a volte in alcune grid cambia questo indirizzo cambia e quindi bisogna rimetterlo a posto altrimenti non funziona ok si fa ok quindi abbiamo la nostra simona stick questa perfetto dopodichè qua entriamo con il nostro nome cognome che ci siamo registrati prima entriamo qua ecco vedete che sto entrando vabbè qui non c'è home location vedete che se vado qua compare tutte le lui sa che è entrato nome e cognome quindi sono entrato e qui vedete che qui questa bellissima cosa che era il vaso mesh con imprudence non lo vedo mesh ma lo vedo come una specie di roba sospesa peccato ecco perché consiglio fenix come minimo se vi giro sul vostro computer dopodichè quando avete finito di lavorare con la vostra sim potete andare su questo uscite con tutti i vostri utenti eccolo qua perfetto e poi potete chiudere quindi fate shutdown di questo quindi così si chiude la sim e poi dovete ricordare ancora di spegnere quando avrà finito di andare sul mowes che è questo e di fare end in modo tale da liberare le risorse della macchina quindi ricapitolando per rientrare per far ripartire la sim dovete prima far partire mowes poi far partire il programma opensim.exe che sta sotto dove avete installato soas qui la rifaccio vedere qui dove avete caricato tutto mowes è il programma dei server database eccetera e poi andate sotto divabin qua e andate a prendervi opensim.exe se per caso volete avere dunque potete fare un send to desktop create shortcut questo dovrebbe funzionare uguale oppure quando insomma vabbè gestitevi voi un po' come come arrivare velocemente a questo a questi link ok allora direi che per per questa lezioncina su come installarsi simbona stick almeno a dicembre 2012 con la nuova versione 0.7.4 che è molto molto interessante e potente è tutto vi ringrazio buona serata per la nuova versione per la nuova versione